Purtroppo c'è un'aiuto molto delicato, non riesco più a affrontare le spese e cerco un aiuto da tutti voi molisani, se possibile. Non chiedo nient'altro, solo semplicemente un aiuto e basta, niente più. Ha suscitato molta commozione l'appello lanciato da un padre campobassano, Giovanni Carozza, tramite Tele Molise. Tantissime persone, dopo aver visto il servizio, hanno manifestato il desiderio telefonando in redazione e mandando messaggi sulla pagina Facebook del direttore di aiutare Giovanni. Da qui è nata spontaneamente una gara di solidarietà per sostenere il consigliere Michele Petraroia, che da un po' di tempo segue il caso della famiglia insieme alla Caritas e ad un'associazione di volontariato. Presto partirà una raccolta fondi tramite conto corrente che probabilmente verrà intestato alla signora Carozza, oppure si aprirà una raccolta attraverso l'associazione tedeschio La Caritas. I dettagli saranno chiariti a breve. Nel frattempo il consigliere Petraroia sta pensando anche ad altri modi per aiutare la famiglia. Io mi auguro che ci sia una soluzione per la casa, al quinto piano, con una figlia malata, senza ascensore, un affitto di 380 euro al mese per chi percepisce un salario di 500-600 euro e insostenibile, serve una stanza sterile, 90 metri quadri per 8 persone sono insufficienti e poi c'è da ripristinare con immediatezza il servizio di assistenza domiciliare perché un uomo solo con gli altri 5 bimbi non ce la fa. Va accelerata la pratica per rimborsare quelle famiglie che vanno a curarsi fuori dal Molise perché costa e non hanno soldi. E poi c'è da modificare il codice 48 dell'esenzione ticket perché alcuni farmaci non passano. Mi voglio augurare e ringrazio a dire la verità anche a nome di Filomena, di Giovanni, coloro che si sono prodigati per liquidare la pensione di accompagnamento. Questo dovrebbe scattare dal primo di ottobre. Giovanni Carozza è un padre in gravi difficoltà economiche da quando una dei suoi sei figli si è ammalata di leucemia. La bambina è ricoverata al bambin Gesù di Roma e per la famiglia le spese sono diventate insostenibili. Sinceramente io quello è lo stipendio e purtroppo non riesco più.